Alvia la trebbiatura del grano in Italia con cali della produzione fino al 20%. Lo segnala un'analisi della Coldiretti in riferimento all'inizio della raccolta del frumento su quasi 1,8 milioni di ettari da sud a nord della penisola. Sono ancora una volta i cambiamenti climatici a colpire i campi pronti alla raccolta. Cambiamenti che, come evidenzia l'associazione di categoria, hanno provocato prima uno slittamento delle semine a gennaio a causa delle piogge che hanno inzuppato i terreni rendendo impossibile il lavoro e poi la siccità e il caldo che stanno incidendo sulla quantità che scenderà sotto i 6,7 miliardi di chili registrati invece lo scorso anno. E se è la Puglia con oltre 360 mila ettari, la regione con la maggior produzione di grano in Italia e quella dove si registrano i cali più pesanti, a ruota la seguono la Sicilia, l'Emilia Romagna, la Basilicata, le Marche, la Toscana, la Lombardia e il Piemonte. Queste ultime con 67 mila ettari ciascuno. In linea con i dati nazionali anche la provincia d'Alessandria, dove la trebbiatura del grano registra un calo della produzione appunto fino al 20%, dato negativo che cresce per orzo, colza e pisello proteico, dove il segno meno tocca appunto anche del 40%. Da una prima valutazione tecnica dei pesi specifici dei cereali, si configura una qualità del prodotto soddisfacente, rimanendo in attesa delle valutazioni qualitative e quantitative che verranno effettuate successivamente. Un dato che, se paragonato a quello dell'annata 2019, dove si sono registrate produzioni aziendali superiori alla media, risulta ulteriormente negativo. La provincia d'Alessandria è particolarmente evocata alla produzione di frumento tenero, con oltre 34 mila ettari di superficie e più di 2 milioni di quintali di produzione. Ma, ricordano gli addetti ai lavori, non dobbiamo dimenticare che la ricerca di grano 100% made in Italy si scontra con anni di disattenzione e abbandono, che nell'ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di un campo su 5, con la perdita a livello nazionale di quasi mezzo milione di ettari coltivati con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente.